Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2 Io sono Glacior Sphere ed oggi è arrivato il momento di provare Mercy, di giocare Mercy appunto Con la skin di Overwatch 2, è un taglio di capelli più fresco, più in lila con i tempi, più di moda diciamo Eccolo qui, e andiamo a leggere le abilità di Mercy Caduceo Benefico O Caduceo Benefico, non so bene dove mettere l'accento in quel caso Tieni premuto per curare un alleato, oppure tieni premuto e aumenta i danni di un alleato Caduceo punitivo, arma automatica, con 2, ok, non penso che lo userò mai Allora, Ultra Valkyria permette di volare, le abilità sono potenziate E Angelo Custode voli verso un alleato mentre sei in volo, saltare ti lancerà in avanti Mentre a covacciarti ti lancia in alto, ok E riporta in vita un compagno di squadra morto E spazio, rallenta la caduta, ok, dice San Gelica Rigenerazione, l'effetto passivo d'errolo di supporto viene notevolmente aumentato, ok Andiamo Si cura la gente con Mercy Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi piacerà, cosa che dubito Tanto che Mercy ha un campaign noiosissimo Di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti E di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Mercy Dandomi magari anche dei consigli Se qualcuno là sopra magari riesce ad ammazzare Kiriko E ne sarei grato Raga, c'è Kiriko là dietro Non so se volete fare qualcosa Boh Ok Ok Beh ragazzi, che dire Gameplay è molto stimolante Grazie Oh buono buono Boh ragazzi Cioè ma c'è bisogno anche di commentare Una cosa del genere Cioè puoi morire solamente Se ti flancano Tipo in questo caso Oh basta starsene qui dietro Tranquilli E curi la gente Nooo L'hanno one shotato Ok Ora perderemo A meno che io riesca A risuscitarlo Ok io sono davvero curioso Di vedere quanto ho curato In questo game Allora c'è un cerchino lì dietro Bisogna saperle queste cose È da sapere Boh ragazzi Cioè le abbiamo Sponchillati Allora overwatch Proprio questo pomeriggio Sta facendo fatica Tantissimo A darmi delle partite equilibrate Cioè sono stravinto E sono straperse Davvero Pessima come volta Boh ragazzi Boh ragazzi Mi sono fatto zero danni Mi sono semplicemente limitato a curare la gente Bad matchmaking Sì sono d'accordo D'accordissimo Overwatch 2 sta fallendo miseramente nel matchmaking oggi Ma tantissimo Tantissimissimo Ok andiamo subito a fare una seconda partita Con il campione estremamente interattivo Noto come Mercy Partita trovata Allora Oddio mi sta venendo il dubbio che non stai registrando Controllo un secondo Ok si sto registrando Va bene No perché mi era venuto il dubbio Non so per quale motivo Perché ogni tanto Comunque Mi ero dimenticato di far partire la registrazione Ogni tanto mi era capitato Ah volevo cambiare skin Ok nell'ultima partita useremo la skin della dottoressa Vediamo un po' com'è Allora Non sarà sicuramente nulla di shashuale Vero? Ma assolutamente no Ma perché ho preso Overwatch Allora Abbiamo ancora Norisa La cureremo Staremo dietro la cureremo Comunque davvero Voglio sapere cosa ne pensate voi di Mercy Perché per me un campione del genere Non ha alcun senso a resistere Cioè è proprio un campione Per quelli È come Yumi su League of Legends Non so se avete presente È uno di quei campioni Che la gente prende E è preso dalla gente Che non vuole giocare Essenzialmente Vuole semplicemente stare lì Vincere E farsi carriare dagli altri Via Ti metti Curi È fatto Devi semplicemente stare attento al Via Via Ok Poi quando ti prendono Sei morto Essenzialmente Quando ti prendono Poi sei morto Dato che non mi metterò mai A cambiare A cambiare arma Per Per sparare Con quella pistolina Ridicola No Anche no Anche perché la pistola È questa ragazzi Ecco Se vi sembra faccia danno Ditemelo però È molto meglio Fare questo Vabbè Morto Potreste curarti Un po' lo sto facendo Però Niente E si muore un'altra volta È il fantastico gameplay Di Mercy Avete visto? Avete visto che bello Mercy E un po' di danni però Li fa Oddio Oddio Se riesci a Hittare la gente Non fai nemmeno troppo male Se non fai nemmeno Troppo poco male Niente Mi sa che ho appena Convertito il mio gameplay In questa partita Tanto che la gente Non è Minimamente Degna Delle mie cure Vado di danno Ok Brava Ok Ok magari ora Cambiamo un attimo Ah Ovviamente Quando decido di provare a curare qualcuno Crepano malissimo È bello È bello Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Boh Boh A cosa servirà Non si sa bene Guardate Guardate un po' Te E andiamo a curare Grazie Grazie Così Così Il mio team Si raggruppa Tutto insieme Lì così A meno Ecco Può fare Tipo Free Danno Guarda lì Free Danno Tutti L'euro che ho già 2400 danni Perfetto E niente Ragazzi È andata così Critico morto Bene Sono qui Niente ragazzi Ammazziamo le persone Solo quando mi metto a sparare Io Ma non vi rendete conto Boh Dai Fai danno Mostro Niente Va bene Mi sono rimessa Completamente Rimettiamoci all'opera Niente Niente qua Sono morti tutti ancora Io morirò adesso Contro Anzo Punto Niente Le cure ci sono In questo team Non ci sono i danni Normalmente I campioni da danno Non stanno facendo abbastanza Le cure ci sono E sono anche tante Qua abbiamo Una FK Va bene Persa Ok Vedremo la terza Ed ultima partita Di Mercy Se sarà Una vittoria Estremamente facile Oppure Una perdita Dolorosissima Come questa Ok Andiamo subito a fare L'ultima partita Di questo video Partita trovata Ed andiamo di nuovo Con Mercy A cui però mettiamo La skin Dottoressa Eccola qui Non preoccupatevi Vi copro le spalle Andiamo andiamo Armi pronte Mi hai chiamato Ma Mi capite Non uscire Ragazzi Che stanno facendo Sistemi Calibrati Per supportare La massima Cooperazione Salve Eco Ma è una skin Tipo una bambola Di pezza Questa Bella Posso spingerla Vero Si la sto spingendo Vai 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 fuori Dalla copertura No Vai davanti Ti rimetterò In sesto Ti senti più potente Ah Va bene Ashi Incazzatissimi Ma hanno ammazzato Tutti Tutti quelli Del nostro team Che coprono un'azione Ah non era Ashi Era McCrit L'altro Ok Sidi Ok Sidi Peccato Peccato Sono qui Per supportarti Cosa vado a fare qua Che sono un support Di merda Andiamo qui E vabbè ma che cacchio Non faccio tempo nemmeno Di arrivare Che sei già morto Anche tu Sì anche tu Vabbè raga Cioè Boh Commettila di renderti Un bersaglio facile Ammazzalo però Colpiscino Ce la fai? Ecco appunto Mi serve aiuto Ti attivi in arrivo Facciamoli fuori Ti aiuto Vabbè ma che pade Mi ha portato qui a morire Mi ha portato Potenziamento ai danni in arrivo Dai 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 Tiralo giù Vabbè Inutile Niente a fare Niente Ma Kree continua a A rincorrermi A uccidermi Hai un'ape nel cappello Eh un'ape nel cappello C'è ancora bisogno Delle mie abilità Salve Ultime trianze Mi hai chiamato Il carico Ha raggiunto Vabbè ragazzi Ma che che è Boh Aspettami almeno Che ti do la mano Niente Sono morto io Questa volta Cioè Il problema di questo tipo Di team È che non sono nemmeno male A giocare È che vanno Alla cazzo di cane Cioè Moira Dovevi aver visto Che c'era Che c'ero io Lì vicino Deve averlo visto Perché ero lì Prima di lei E comunque Se ne è fottuta Era andata in un posto In cui non potevo raggiungerla Boh Vabbè è morto pure lui Dai fa un po' di danno Niente da fare Niente da fare Niente da fare No Fa un po' di cagare Non è che vanno da soli È che purtroppo Sono molto più gravi Di avversari Guarda Sto Doomfist È bravissimo Nulla a che fare Rispetto a quando L'usavo io Tu sei FK Bravo Era rilasciare Il campione Era lì Ah Perfetto Non posso nemmeno Dare dietro Sì ma è inutile Potenzio i danni Della gente Che non sa giocare Boh È un po' di cagare grande grande Cassidy play of the game play of the game ho premuto Q play of the game vado ragazzi il ritardo che c'è in questi in queste partite di overwatch oggi è disarmante quello lì che si casa per aver fatto la play of the game con Bo un'azione che oh ma ce n'è uno dietro ragazzi ma ce n'avete uno dietro Bo Bo boh ragazzi che schifezza di partite oggi che schifezza ringraziamo overwatch per questi video così belli dato che il matchmaking di overwatch a quanto pare oggi è completamente andato quel paese ringraziamo anche McCree per aver premuto un pulsante e aver fatto la play of the game e punto complimenti si 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 complimenti e questo video finalmente finisce qui dato che Mercy trovo che sia il campione più noioso da giocare di tutto overwatch quindi vi ringrazio per aver seguito questo video vi ricordo lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto di commentare ed iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti da Glaciosphere è tutto al prossimo video grazie a tutti